Sarebbero più di 21.000 studenti a Napoli che al rientro a scuola a settembre resterebbero senza aula. Questo quanto sottolineato dalla ministra Azzolina e per cui si rende necessario reperire spazi affinché tutti i ragazzi possano riprendere le attività didattiche in presenza. Quindi come fare? La proposta sarebbe quella di recuperare beni confiscati alla mafia per renderli disponibili. Durante il lockdown, quando le scuole erano chiuse, l'Agenzia Nazionale per i beni confiscati alla criminalità con la direzione del prefetto Bruno Frattasi ha iniziato un corposo lavoro per verificare quali beni sottratti alle mafie potessero essere utili per aiutare le scuole e riprendere l'attività scolastica. Sarebbero circa 200 le strutture individuate in tutta Italia, 25 in Campania, tra queste anche Giuliano con due immobili classificati come buoni. Le strutture in questione non avrebbero bisogno quindi di grossi interventi di ristrutturazione. Si tratterebbe di due villini, uno di 600 metri quadrati e l'altro di 200. Qui potrebbero nascere aule per ampliare così gli spazi scolastici, garantire il distanziamento sociale e la didattica in presenza per tutti gli studenti che altrimenti sarebbero costretti a didattica a distanza, turnazioni e presenze nelle cosiddette aule pollaio. Al momento, secondo quanto riportato nell'intervista realizzata dal mattino al prefetto, non vi sono ancora rispuste in merito. Intanto, sarebbe questa la proposta più valida per permettere un rientro in aula, evitando il sovraffollamento delle aule. Molte strutture scolastiche campane per di più sono vecchie e realizzare ampliamenti diventerebbe difficile e oneroso, senza contare che diverse scuole hanno visti bloccati i lavori di ristrutturazione in seguito al lockdown, ritrovandosi così addirittura con aree in meno. Grazie 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 Grazie